Buonasera a tutti, signore e signori, benvenuti a questa ventunesima lezione magistrale molto attesa con il professor Remo Bodei, un ospite fisso, un grandissimo pensatore al quale subito rivolgo un ringraziamento particolare per la sua presenza. Molto gradita, molto importante, un'iniezione di fiducia per il nostro festival. Ringrazio e porto i saluti dell'assessore alla cultura Francesca Cerini che per motivi personali non è potuta intervenire, ringrazio tutta l'amministrazione comunale di Desenzano per aver aderito anche quest'anno alla nostra manifestazione. Come sapete siamo al giro di boa finale di questa tredicesima edizione, una vera e propria maratona del pensiero con relatori di caratura internazionale. Questa sera, dopo aver ragionato per molto tempo dal 5 giugno, professore, su questo tema così centrale per il nostro presente del condividere, non poteva esserci titolo più azzeccato che quello scelto dal professore Bodei. Mi permetto semplicemente di ricordare come si sia depanato una sorta di filo rosso in questi giorni e in questi incontri che si sono susseguiti di data in data, di luogo in luogo in questa tredicesima edizione. E il tarlo dell'individualismo, il problema della solitudine, il problema del lavoro, il grande problema sociale delle disuguaglianze, visto che il professore Bodei parlerà di giustizia distributiva, si sono posti dinanzi a noi con una frequenza che chiede ascolto, che chiede attenzione, che chiede di non abbassare lo sguardo, che chiede di fare qualcosa, ciascuno per quello che può. E già essere qui insieme ad un maestro come il professore Bodei a ragionarne, io credo che sia un passo molto molto importante per contrastare anche quella indifferenza, che è un altro tarlo molto pericoroso, che si sta aggirando in questa nostra società planetaria, in questa nostra società liquida. Il professor Bodei è professore di filosofia presso l'Università della California a Los Angeles, tra i massimi esperti delle filosofie dell'idealismo classico tedesco dell'età romantica, si è occupato, come è ampiamente noto, di pensiero utopico e di forme della temporalità nel mondo moderno. Ha inoltre indagato il costituirsi delle filosofie e delle esperienze della soggettività tra mondo moderno e contemporaneo, pervenendo a una riflessione critica sulle forme dell'identità individuale e collettiva. Tra le sue innumerevoli opere ricordiamo scomposizioni, forme dell'individualismo, dell'individuo moderno, geometria delle passioni, paura, speranza e felicità, il noi diviso, etos e idee dell'Italia repubblicana, le logiche del delirio, destini personali e poi ancora piramidi di tempo, paesaggi sublimi, la passione furente, la civetta e la talpa, la filosofia nel novecento, limite, le virtù cardinali, le forme del bello in edizione ampliata, e come non ricordare che tra gli innumerevoli meriti che il professor Bodei ha, ne ha anche un altro, che è riuscito ad introdurre nella nostra contemporaneità, perché è lui che ha il brevetto e bisogna riconoscerlo, quindi ci inchiniamo davanti a questa grande intuizione, il festival di filosofia più importante del mondo, che è il festival di Modena, che per noi è sempre un grande esempio e un grande modello dal quale imparare e al quale andare a scuola tutti gli anni. Ricordo che il festival di Modena quest'anno sarà sulla verità e si terrà come sempre nella terza settimana di settembre. Ringrazio tutti voi che siete intervenuti, ringrazio naturalmente ancora il professor Bodei e gli passo molto volentieri la parola. Grazie. Buonasera, sono io a ringraziare la dottoressa Nodari e voi che siete qui, si temeva che piovesse invece evidentemente, abbiamo avuto fortuna. Fortuna. Giustizia distributiva è un modo per dire come si può condividere qualche cosa che si ha in comune. Per spiegarlo inizierò ricordando due massime. La prima si tratta del diritto romano ed è quella unicuicue sum tribuere, dare a ciascuno il suo. È un detto che è stato coniato da un grande giurista romano che si chiamava Ulpiano e che è nel corpo di diritti dell'imperatore giustiniano. Lo trovate spesso sulle facciate dei tribunali in Italia, ma anche sotto il titolo dell'osservatore romano. Unicuicue sum tribuere alterum non ledere. Cioè non fare male agli altri. Però si trova anche in tedesco Jedem das Seine, è sempre dare a ciascuno il suo, all'ingresso del campo di concentramento di Buchenwald. Che per ironia della sorte si trova alla periferia di Weimar, che è il cuore della cultura tedesca, a pochi chilometri di distanza dalla casa di campagna di Goethe. Questo è già un indizio per cogliere l'ambiguità del dare a ciascuno il suo. Come si può interpretare questo principio e le sue eventuali distorsioni? La seconda massima, che cito nella versione latina della Bibbia, la cosiddetta Vulgata, deriva dal capitolo 45 per la cronaca del libro di Ezechiele, in cui appunto il Dio degli ebrei, Yahweh, una volta conquistata la terra promessa, divide in parti la terra stessa e stabilisce che ciascuno si tassi per gli animali da sacrificio. Quindi, mentre nel testo romano, unicuicu e su un tribuere, si parla di dividere o condividere i benefici, i vantaggi, ciò che spetta a ciascuno, qua si tratta di condividere gli oneri, i doveri, non i diritti. E quindi nel testo Yahweh chiede che appunto questa terra, che all'inizio era stata occupata dal primo venuto, venisse suddivisa in certe parti, non uguali. Non c'è l'uno vale uno, come vi dirò in seguito in un altro contesto. E quindi chiede che ci sia una rinuncia di ciascuno per il bene di tutti. Quindi si pone di nuovo la domanda, che vale per tutto quello fino a oggi che riguarda il condividere. A chi spettano i diritti e i doveri? La distribuzione e la condivisione dei benefici e dei danni sono uguali per ciascun individuo? Cioè a ognuno toccano parti uguali della torta? Oppure vengono mantenute le diseguaglianze? Magari giustificate in base all'età o al merito? O magari invece ingiuste? Quando si viola il principio del dare a ciascuno quello che è basato sulle qualità di ciascuno? Queste domande oggi sono più urgenti che pochi decenni fa. La tendenza di molti è di non condividere gli oneri e i doveri e invece di volere quello che spetterebbe anche agli altri. Uno dei motti delle utopie del 68 è stato vogliamo tutto, cosa che è piuttosto complicata. Il problema della giustizia nel condividere oneri e vantaggi è sempre stato ovviamente importante nella vita di tutte le società. Ne parlerò in termini storici più avanti. Ma voglio entrare subito per chiarezza nel presente. E cioè sul piano locale e globale. Sul piano locale noi oggi vediamo nei nostri paesi dell'Europa, dell'America del Nord, la crisi dello Stato sociale, del cosiddetto welfare state e quindi delle pensioni, delle malattie, di tutto ciò che lo Stato subito dopo la seconda guerra mondiale ha attribuito ai cittadini per rendere la loro vita migliore e più confortevole. Oggi questi elementi, queste risorse si restringono sempre più e in molti paesi, penso agli Stati Uniti soprattutto, si crea un nuovo solco tra chi è incluso in questi benefici e chi è escluso. Ad esempio il Presidente Obama aveva cercato di dare le assicurazioni di malattia e le pensioni sulla vita, insomma le assicurazioni sulla vita a circa 49 milioni di americani che ne erano completamente esclusi. per cui devono pagarsi le spese mediche, farsi un'assicurazione privata sulla vita. Trump è arrivato e sta cancellando tutto, quindi si creano nuove divisioni. Quindi c'è chi è incluso in questi vantaggi dettati soprattutto dal diritto di cittadinanza e chi è invece escluso, per esempio negli Stati Uniti gli immigrati americani e sudamericani, gli scarti umani privati del lavoro e della dignità. Sul piano globale invece, a prescindere da singoli paesi, la situazione è molto più seria e si preparano dei tempi tristi se non si troveranno delle soluzioni. Per usare un'espressione dantesca, quando nella Divina Commedia il poeta mira la terra dall'alto dei cieli e la chiama l'aiuola che ci fa tanto feroci, perché nella terra, continuo ad un altro punto, è mestier di consorte di vieto. Cioè quello che io ho lo strappa un altro, perché le risorse sono scarse e come si dice in termini popolari, la coperta è stretta e si tira da una parte o dall'altra. Chi si copre rischia di scoprire gli altri. E questo pone delle domande cruciali e radicali. In che misura è realisticamente possibile condividere beni che da un punto di vista etico dovrebbero appartenere a tutti? Per esempio la terra, le risorse, l'acqua, la terra da arare. Di fatto una sorta di lotteria naturale ha distribuito i doni della terra. Fertilità, acqua potabile, ricchezze minerarie. In maniera casuale rispetto agli abitanti di determinate zone. Ci sono quelli fortunati che li posseggono da tempo o se ne sono appropriati, attraverso le guerre in genere, e quelli meno fortunati che ne sono provvisti in scarsa misura oppure che ne sono addirittura privi. Gli abitanti di zone inospitali o desertiche, coloro che non hanno risorse nel loro suolo o sottosuolo o che ne sono stati espropriati. Popoli e individui hanno da sempre combattuto per la loro sopravvivenza e per il relativo controllo delle risorse e delle frontiere politiche che sono state per lo più disegnate dalle guerre. Ancora oggi, in una fase storica in cui il consumo di energia derivante dal petrolio, dal metano, dall'uranio, dalle biomasse enorme, l'economia e la politica sono dominate dal bisogno di assicurarsi con la forza o con l'astuzia non solo di quei beni ma anche di altri sempre più indispensabili alla tecnologia. Faccio un esempio istruttivo. Le nostre batterie di computer, i cellulari, l'industria aerospaziale, le superleghe hanno bisogno di una delle 14 terre rare, si chiamano, sono tipi di metalli che vengono scavati e sono in polvere, che si chiama tantalio ed è formato assieme alla colombite da luogo al coltan, colombite più tantalio. Si trova per l'80% in Congo ed ha creato delle guerre palesi e nascoste sia tra le potenze vicine, l'Uganda ad esempio, sia tra le grandi potenze internazionali, la Cina, gli Stati Uniti, l'Inghilterra e la Russia. Questo metallo si scava a cielo aperto, è radiattivo. questi poveri minatori nudi che lo scavano muoiono una percentuale del 30% nel giro di pochi anni. I nostri telefonini, se li guardate bene, grondano sangue. Cioè, sono il risultato di questo contrastato tentativo di non condividere con gli altri, questi ritrovati della tecnica, di non trattare i minatori in modo da essere protetti dalle radiazioni. Quindi, la nostra tecnologia è il risultato di un campo di battaglia, una cosa che non dobbiamo dimenticare, in cui, essendo mestier di consorte di vieto, cioè l'idea che tutti possono avere accesso a tutto, non c'è giustizia distributiva, né giustizia retributiva, cioè di dare a ciascun individuo quello che gli spetta. La penetrazione in Africa di potenze come la Cina in questo momento che sta acquistando con un nuovo tipo di colonialismo soft, una superficie enorme grande molte volte l'Italia per sfamare in prospettiva i suoi abitanti perché è caduto il divieto del figlio unico in Cina e ora imitano l'India che invece non ha mai tenuto questo divieto che sta avvicinandosi alla Cina velocemente ha superato il miliardo di abitanti la Cina ne ha un miliardo e trecento milioni quindi esiste già in Africa ed è questo che contribuisce un po' anche alla fuga di molti degli abitanti una gara per impadronirsi di queste risorse enormi e non sfruttate dai vecchi colonialisti che produce da un lato questa prevalenza attualmente della Cina che appunto non pone esigenze di tipo politico ma si fa benvolere attraverso la costruzione di ferrovie autostrade ospedali e quindi conquista scalzando in parte i francesi in parte gli inglesi che hanno meno e gli Stati Uniti vi ho citato questa questione dell'Africa perché si pone una domanda più radicale ma anche inaggirabile non si può fare a meno di porla ed è questa con quale diritto un individuo o un popolo abita la terra e sfrutta i suoi doni in maniera esclusiva in realtà tutti i luoghi abitati tranne alcuni forse come la Groenlandia sono stati luoghi in cui si sono scontrati popolazioni diverse ho letto entrando qua che questo castello di Desenzano è stato fatto con questo enorme cortile per metterci gli abitanti quando gli Ungari venivano qua a farvi visita ma tutta la la nostra Italia per fare un esempio c'è in Toscana Bolgheri perché ci sono arrivati i Bulgari noi siamo in Lombardia perché sono arrivati i Longobardi i Veneti e i Romani i Latini sono la stessa stirpe solo che i Veneti erano più stracchi sono fermati prima ma la stirpe il ceppo è uguale in Italia abbiamo avuto Arabi Normani abbiamo avuto di tutti e quindi le conquiste territoriali hanno creato delle forme di divisione su cui la storia con le sue dure repliche non permette né al diritto né alla morale di avere una parola e quindi il problema è possibile una redistribuzione equa delle risorse o ci stiamo avviando in una direzione contraria faccio un altro esempio che provocherà nel futuro delle tensioni difficili da risolvere l'Etiopia da cui parte il Nilo Azzurro sta costruendo una Dega una Diga è un'industria italiana che la sta facendo l'imprengilo che costerà 5 miliardi di dollari equivalerà alla potenza di 5 grandi centrali elettriche il problema è questo come il Nilo Azzurro confluendo col Nilo Bianco crea quel Nilo che per millenni ha arricchito l'Egito esondando e portando il suo limo se le acque del Nilo Azzurro verranno trattenute la portata del Nilo sarà minore e l'Egito che sta già facendo proteste diplomatiche ma con velate minacce militari potrebbe intervenire quindi noi siamo in un periodo in cui la equa distribuzione delle parti la partium equa libratio di cui parla il libro di Daniele nella traduzione latina la pesatura o la distribuzione equa delle parti si allontana sempre più quindi la pace attualmente è minacciata proprio dalle prevedibili lotte che si scateneranno o sono già in corso per il controllo di risorse materiali che non possono o non vogliono essere condivise grazie a negoziati o arbitrati internazionali forse si potranno trovare delle soluzioni ma diventano sempre più difficili lo stesso problema che vale per il nilo azzurro si trova in molte parti del mondo per esempio in Giordania con Israele la Palestina con il Tigri e le Ufrate con queste fra l'altro sono anche zone di guerra siccome questa era una caverna una caserma ci sono dei soldati italiani come sapete che difendono la diga di Mosul e quindi noi abbiamo una restrizione continua di ciò che è comune l'acqua per esempio al di fuori delle acque territoriali la pesca è libera quindi c'è una distribuzione equa delle parti per chi vuole andare a pescare però certe nazioni hanno esteso le acque territoriali da 12 miglia a 200 miglia per esempio in Libia tutto il golfo della Sirte che è profondo sono acque territoriali libiche e poi sebbene il fondo marino sia stato dichiarato dall'ONU come on good cioè bene comune ormai i metalli leggeri magnesio eccetera che si trovano in forma di ciottoli di palline sul fondo marino vengono sfruttati impunemente dalle grandi nazioni l'ONU sta correndo i ripari in molti modi cioè per esempio ha dichiarato l'Antartide e la Luna dei beni comuni quindi che non si possono appropriare possono essere presi da piccole o grandi nazioni ed è passato di recente l'idea che il DNA umano sia un bene comune e che vuol dire che se qualche industria farmaceutica attraverso lo studio di segmenti del DNA pretende di avere il monopolio della scoperta non lo potrà fare cosa che invece è già accaduta perché una cosa è scrivere queste grida manzoniane come si diceva e un'altra cosa è applicarle riprendendo in esame un problema più urgente quello dell'acqua che si chiama ormai oro azzurro noi vediamo che c'è già un miliardo di uomini che non dispone di acque potabili a sufficienza per soddisfare la sete per preparare cibo e allevare bestiame e neppure di acque non potabili per servizi igienici e la mancanza d'acqua è in generale la seconda causa di morte sul piano planetario ecco ora torno indietro per vedere non il presente se non in prospettiva ma come questo tema del del divisione dei beni sia scusate perché cerco le pagine per trovarvi delle situazioni questa situazione sia molto antica il problema della giustizia distributiva oppure retributiva e antico come l'umanità organizzata per esempio nella nostra cultura occidentale i testi più antichi che sono l'Iliade di Omero o chi per lui e le opere e i giorni di Esiodo ne trattano già vale la pena rispolverare un po' i nostri ricordi scolastici un po' sbiaditi ricorderete nell'Iliade che Achille cattura o ottiene meglio come parte del bottino la bella Briseide Troiana che ne fa la propria schiava ed amante mentre Agamemnon si impossessa di Criseide figlia di Crise sacerdote di Apollo questo viene davanti Agamemnon gli propone dei doni superbi se gli restituirà la figlia Agamemnon è altezzoso rifiuta Apollo perché Crise è un sacerdote del suo culto per vendetta ricorderete stermina l'esercito Accheo con una peste e allora Tiresia l'indovino dice ad Agamemnon che per placare l'ira d'Apollo deve restituire Briseide infuriato Agamemnon il capo dell'esercito dei greci costringe Achille a restituire questo dono d'onore che è la schiava Briseide e Achille se ne va infuriato nella sua tenda e non partecipa più alla battaglia e lascia che i greci muoiano in gran quantità Odisseo o Ulisse viene inviato allora da Agamemnon per placare l'ira funesta di Achille e gli offre di nuovo grandi doni ma Achille rifiuta e il motivo del rifiuto è interessante è uguale la parte di chi resta fermo e di chi lotta moltissimo questo è l'elemento che non gli piace che non ci sia una giustizia uguale per tutti che si appunto è uguale la parte di chi resta fermo e di chi lotta moltissimo nello stesso onore sono tenuti il valoroso e il vigliacco muore allo stesso modo chi non fa niente e chi ha fatto tanto quindi gli uomini hanno sempre avuto questa pretesa o questo bisogno di giustizia e si sono sempre battuti per un ideale vero o falso che affermasse questa virtù in esito invece la distinzione tra la città giusta e la città ingiusta è a fondamento delle opere e i giorni e si esprime attraverso il diniego del diritto del più forte cioè chi è più forte non per questo è nel giusto e questo lo esprime con una favola quella dello sparviero e dell'usignolo che non la sto a leggere perché è un po' una traduzione un po' aulica ma in sostanza lo sparviero ghermisce l'usignolo e gli dice dopo averlo traffitto con le unghie ricurve gli dice perché gemi poveraccio perché ti stringo molto forte e vado e faccio quello che mi pare di te farò banchetto se voglio se voglio invece ti lascio questa idea che il giusto coincide col volere di più forte è alla base della grande nel senso anche voluminosa politica di Platone cioè sono dieci libri fatti sostanzialmente per confutare la tesi di Trasimaco che era un sofista insomma suo avversario che sosteneva che giusto è quello che piace al più forte quindi se il giusto decide come nella favola di Esopo che ora in parte vi leggerò di fare la parte del leone qui a Sumleo perché sono leone mi prendo tutto e voi state zitti tutta questa idea che è la forza che fa il diritto e che quindi la giustizia non esiste è un'illusione e quindi che la condivisione giusta di qualsiasi cosa dei beni si è organizzata in maniera il più possibile come si direbbe democratica trova sempre qualcuno che non osserva le regole ebbene questa idea ha attraversato tutta la nostra cultura il senso comune c'è la sfiducia chi mi dice che le parti sono state fatte bene ora accanto a a questa favola del leone che si fa la parte che secondo lui gli spetta c'è un'altra favola di Esopo sono interessanti le favole perché sembrano per bambini ma in realtà sono per adulti è la favola 96 intitolata il vecchio leone e la volpe e che mostra come la forza può essere battuta ma non guardate direttamente dalla ragione ma dall'astuzia che si serve della ragione ve la leggo perché è deliziosa un leone invecchiato non essendo più in grado di procurarsi il cibo con la forza capì che doveva procurarselo con l'astuzia si ritirò quindi in una caverna e sdraiatosi là fingeva di essere ammalato così man mano che veniva qualche animale a fargli visita lo afferrava e se lo mangiava avendo già catturato molte bestie quando andò da lui la volpe che sospettava il suo stratagemma si fermò a qualche distanza dalla caverna e cominciò a informarsi della sua salute va male rispose leone e le chiese perché non entrasse lo farei disse la volpe se non avessi veduto tante orme di animali che vengono dentro e nessuna che venga fuori così gli uomini di buon senso fondandosi sugli indizi prevedono i pericoli gli sfugge dice esopo ora nella grande filosofia cioè in Aristotele si pone il problema nel quinto libro dell'etica nicomachea che è dedicato appunto alla giustizia si pone il problema del come distribuire i beni e allora in Aristotele ci sono due tipi di giustizia tutte basate matematicamente che è un'idea che è restata per millenni sul sul calcolo sulla proporzione in senso matematico c'è la giustizia geometrica che non è proporzionale uno vale uno ma è la giustizia che secondo la formula A sta B come C sta D stabilisce che bisogna dare a ciascuno secondo certe qualità ad esempio i meriti che sono diversi non si può dare a tutti la stessa cosa Aristotele c'è una formula che per quanto sia piuttosto a prima vista difficile è abbastanza facile la giustizia consiste nel trattare gli uguali come uguali e i disuguali come disuguali faccio un esempio tratto da scuola o dall'università se io a uno che meritava 30 gli do un 27 non lo tratto con la categoria di quelli che dovrebbero essere veramente titolari di un 30 è lo stesso quindi lo discrimino in negativo è lo stesso se uno che merita 27 ha un 30 ho detto in termini di scuole medie invece di di un 7 a un 10 lo discrimino in maniera positiva cioè lo tratto essendo un disuguale lo tratto come uguale ecco quindi la formula è abbastanza semplice quindi c'è la giustizia che usa la proporzione geometrica e invece la giustizia che usa la proporzione aritmetica è che è quella dei tribunali e cioè uno dice Aristotele potrebbe essere un uomo da bene e derubare a un uomo da poco oppure un uomo da poco che deruba un uomo da bene ma io lo devo trattare uguale qui veramente uno vale uno ed è chiamata giustizia aritmetica quindi c'è un problema di di giustizia che si può misurare misurare secondo i meriti e quindi proporzioni disuguali o in alcuni casi misurare sul piano dell'eguaglianza quindi la giustizia esiste è addirittura dice Aristotele una virtù architettonica cioè come la trave che sorregge un tetto la società non esisterebbe senza un'idea di giustizia più o meno stravolta guardate come cambiano le cose faccio dei discorsi molto a tappe forzate per motivi di tempo come cambiano le cose con il cristianesimo il cristianesimo rispetto al modello ebraico della giustizia anche oggi i giusti sono considerati c'è invece della giustizia c'è l'amore e l'amore cosa implica che non c'è soltanto la giustizia c'è anche nel mondo musulmano la misericordia misericordia cambia i pesi delle nostre azioni se si pesassero come nella religione egiziana che si metteva una piuma e il cuore del morto su una bilancia noi dovremmo essere dannati perché il peso dei nostri peccati ci trascina verso l'abisso invece nell'amore cristiano non si tiene conto di questo peso anche se risulta scarso e non si tiene conto nemmeno del do des dello scambio mercantile c'è una parabola che è un po' lunga ma me la voglio leggere per dire che sostanzialmente nella distribuzione dei dei beni dei meriti in questo caso del salario perché quello della vigna la parabola dei lavoratori della vigna ci sia una sorta di altro tipo di valutazione che va al di là sia della proporzione geometrica delle disuguali in Aristotele sia della proporzione aritmetica in Matteo 21 16 nel Vangelo si dice così il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna accordatosi con loro per un danaro al giorno li mandò nella vigna uscito poi verso le nove del mattino ne vive altri che stavano sulla piazza disoccupati e disse loro andate anche voi nella mia vigna quello che è giusto ve lo darò ed essi andarono uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le tre e fece altrettanto uscito ancora verso le cinque ne vide altri che se ne stavano là e disse loro perché ve ne state qui tutto il giorno oziosi gli risposero perché nessuno ci ha presi aggiornata ed egli disse loro andate anche voi nella mia vigna quando fu sera il padrone della vigna disse al suo fattore chiama gli operai e da loro la paga incominciando dagli ultimi fino ai primi venuti quelli delle cinque del pomeriggio ricevettero ciascuno un denaro quando arrivarono i primi pensavano che avrebbero ricevuto di più ma anch'essi ricevettero un denaro per ciascuno nel ritirarlo però mormoravano contro il padrone dicendo questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo ma il padrone rispose a uno di loro amico io non ti faccio torto non hai forse convenuto con me per un denaro prendi il tuo e vattene ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te non posso fare delle mie cose quello che voglio oppure sei invidioso se io sono buono così gli ultimi saranno i primi come vedete questa frase famosa gli ultimi saranno i primi deriva da qua quindi l'amore e la misericordia rendono uguali nella retribuzione il regno dei cieli in questo caso uomini che per diverso atteggiamento peccati come dice in termini religiosi avrebbero essere avrebbero tutto essere trattati diversamente ora di questo lunghissimo dibattito sulla giustizia siccome come si distribuiscono doveri e diritti è entrato un tema subito dopo la seconda guerra mondiale esisteva già ma per immunizzarsi possibilmente dall'orrore di ciò che è successo e cioè di attribuire a ogni uomo una sua intrinseca dignità vediamo un po' cos'è questo termine dignità è un termine che nel mondo antico romano in particolare designava delle cariche quindi avere una dignità essere che so io generale sacerdote c'era una notizia dignitatum del quinto secolo con l'elenco di tutte le cariche imperiali è vero che nella messa c'è domine non sunt dignus signore non sunt degno ma non sunt degno della carica della specificità di aspirante diciamo al paradiso è nel seicento che riprende questo dibattito sulla dignità quando il filosofo Hobbes sostiene che non c'è differenza tra dignità e prezzo cioè tutti gli uomini hanno un prezzo e quindi non è vero che ci siano quantità incommensurabili che distinguono un uomo dall'altro dice in tempo di guerra un giudice giusto non serve a niente perché facilmente è corruttibile così un medico quando non ci sono malattie è stato Kant che invece ha ristabilito l'idea di separazione tra dignità e prezzo non è vero che tutti gli uomini hanno un prezzo è vero non che il singolo uomo ma che la specie umana la natura umana è provvista di dignità per cui ogni individuo non può essere trattato soltanto come mezzo come strumento come schiavo ad esempio ma anche come fine queste cose sono rimaste in ambito filosofico a lungo però nel secondo dopoguerra dopo i campi di sterminio nazisti poi saprà dopo i gulag russi è successo che la costituzione tedesca ha messo come articolo uno l'idea che ogni ogni uomo è dotato di una c'è un termine tedesco tastbar che vuol dire che si può un tastbar che non si può assaggiare letteralmente ma una inalienabile dignità la costituzione italiana non parla di dignità ma parla di dignitoso eccetera ma le Nazioni Unite nel 45 nel 48 non stabilito questa idea della dignità umana il problema grosso dal punto di vista teorico è che come facciamo a dire che ogni uomo sostanzialmente è dotato di questa caratteristica si è ricorso all'idea di un diritto naturale come c'è nelle costituzioni francesi e americane ogni uomo nasce libero uguale e si aggiunge dignitoso però il problema probabilmente è che la dignità come l'uguaglianza la libertà sono delle conquiste storiche e appunto perché sono fragili devono costituire una specie di armatura per difendersi allora il problema è stato dibattuto e su questo concludo in maniera finora ineguagliabile tra gli anni 80 e poi in seguito da due filosofi americani uno era Robert Nozick e l'altro era John Rawls i quali hanno pensato di avere degli incontri proprio perché le loro posizioni erano diametralmente opposte Nozick era convinto che gli uomini per caso nascono in un certo modo e che cambiare questo modo ricchi poveri sani malati era mettere in causa la propria origine perché dice in maniera spavalda che ciascuno di noi è il risultato di un solo spermatozoo tra milioni che ha fecondato un ovulo quindi tutti noi siamo figli del caso ed è per questo rischioso dice lui far ricorso a criteri di riequilibrio di giustizia basata sulla commensurabilità tra individui diversi perché in realtà dice gli individui tra loro sono incommensurabili e il bene comune non è che una chimera sacrificare un individuo a vantaggio di altri significa semplicemente nuocere a lui e giovare ad altri morale ciascuno per sé e nessuno per tutti è molto più in voga oggi di quanto lo fosse negli anni Ottanta combattendo su due fronti invece John Rawls ha sostenuto che l'idea di una lotteria naturale quel che capita capita non deve essere accettata che la giustizia la moralità si basa proprio sull'idea che bisogna aiutare quelli meno favoriti dalla sorte in maniera tale per quanto è possibile di possedere un'arma che se non riequilibrerà la situazione all'interno della società certamente toglierà gli aspetti più sgradevoli e nocivi e lui si serve di un esempio di una specie di esercizio mentale cioè immaginate come è stato per esempio nella Repubblica di Platone che prima di nascere si decidano le vostre sorti soltanto che in Platone era il Dio che le decideva qua vi mettono davanti al... se voi non sapeste in che posizione della scala sociale finireste cosa vorreste dove vorreste mettermi allora insomma il risultato per farla breve è che tutti per paura di finire negli ultimi posti sceglierebbero una situazione che accetta che chi sta indietro venga appunto favorito guardate che questo ha determinato negli Stati Uniti poi la cosa è andata anche in Europa e trova che per esempio a scuola bisogna aiutare chi sta più indietro cioè che giustizia consiste non nel favorire quelli che sono più bravi ma nel aiutare quelli che stanno indietro a raggiungere naturalmente qua ci sono due pericoli il primo quello elitista è di preoccuparsi soltanto di chi sta avanti e quindi trascurare e lasciare indietro gli altri il secondo è un effetto un po' della vulgata don milanista oppure di De Mauro delle duemile parole e cioè tenere il passo del più lento naturalmente tutte almeno mi avviso su questo si potrà discutere tutte e due le posizioni estreme non vanno bene però la questione diventa allora in che modo io distribuisco in questo caso della scuola il sapere in che modo devo creare una gerarchia per cui chi è più preparato viene mandato avanti e chi sta indietro o viene abbandonato o viene aiutato più degli altri questa è una questione che si è posta e che è stata risolta in vari modi quindi ci deve essere una distribuzione diversa ci deve essere un'idea di giustizia che non è né quella di dare a ciascuno il suo nel senso che tutti devono avere una porzione diciamo della torta del sapere uguale e nemmeno qua sarebbe l'ingiustizia di dare a caso dei vantaggi per esempio se uno sta simpatico dei tuoi allievi o ha l'appoggio di qualche tuo amico o parente che tu lo mandi avanti anche questi piccoli elementi diciamo della quotidianità fanno parte di un'idea di giustizia allora succede che in tutte le democrazie a scarsità moderata come dice cioè che non sono del tutto povere ci deve essere un uso della giustizia tale che se non osservato crea caos nella società una società che ha la percezione della presenza di ingiustizie sia a livello di classi dirigenti sia a livello popolare è una società malata per cui i talenti dei singoli secondo lui di chi studia di più di chi è più bravo i meriti devono essere riconosciuti ma questo riconoscimento deve far sì che si crei un circuito virtuoso per cui chi è più bravo potrebbe aiutare meglio chi è più indietro di lui come programmi per esempio in malattie come l'autismo eccetera eccetera quindi una società come si dice solidale una società solidale che contrasta con un tipo di società voglio dire che oggi si sta invece affermando per cui ciascuno si prende la sua porzione di diciamo di risultato della lotteria naturale se io sono nato ricco ho dei vantaggi me li tendo tengo e non li divido con nessuno e chi è nato diciamo svantaggiato in qualsiasi modo tende attraverso forme anche o di invidia o comunque di insoddisfazione a a entrare in un circuito non virtuoso in cui tutto diventa confuso se c'è una morale quello che vi ho detto partendo dal dare a ciascuno il suo e dall'equa divisione delle parti è che raggiungere una unanimità su cosa sia giusto in termini di giustizia distributiva e cosa sia ingiusto è un elemento di divisione perché succede che chi è nato avvantaggiato pensa di avere ragione chi è nato svantaggiato pensa che la società sia ingiusta e da cambiare e sono atteggiamenti umani troppo umani che sono difficili da governare politicamente ma sono relativamente non dico facili ma comprensibili sul piano filosofico e sul piano morale cioè che la discriminazione sia ingiusta è evidentemente qualche cosa che teoricamente non possiamo accettare però di fatto si pratica perché ci sono passioni interessi ci sono dei climi storici che fanno cambiare le idee noi siamo in una fase meteorologica della morale viviamo in una specie di morale provvisoria permanente e questo fa sì che i nostri valori morali siano traballanti ora è inutile fare prediche e invitare a essere buoni e giusti il problema è che quando si vive in situazioni di insicurezza l'insicurezza provoca una specie di imbarbarimento per cui la soluzione non è tanto di dire diventate più giusti perché queste sono prediche inutili la soluzione sarebbe che ciascuno contribuisca di suo a rendere l'esistenza sua e quella degli altri possibilmente più tranquilla possibilmente più vorrei dire la parola giusta ma significa semplicemente rendere la situazione più sicura più sicurezza c'è ma non in senso politico più sicurezza c'è nell'esistenza della vita più solidarietà per esempio c'è più questi valori sono facili di attuare altrimenti restano lettera morta vi ringrazio e così sia ringraziamo il professor Bodei per questa meravigliosa lezione e come facciamo solitamente possiamo raccogliere eventuali vostre domande chiedendovi sempre la cortesia della sintesi grazie Sì mi ha fatto pensare questa chiusa sulla giustizia in quanto penso possa essere importante pensare ancora a un tipo di giustizia che ci aiuti a vivere il presente nelle situazioni più imminenti penso per esempio quando si parla di decrescita quando si parla di modello unico di sviluppo quando si parla di sistema economico che più della politica più delle questioni più interpersonali ci stanno dando tanto da pensare ci stanno mettendo anche in difficoltà su quali possono essere le nostre le nostre azioni i nostri pensieri e quale può essere il nostro futuro noi potremmo quindi pensare a una giustizia che al momento ci aiuti innanzitutto anche in merito alle cose che sono state dette sull'ONU e sul territorio e sull'ambiente a regolamentarci proprio dal punto di vista di una sicurezza globale prima ancora che interpersonale e poi soggettiva le norme morali o giuridiche sono come le leggi fisiche perché ad esempio una legge del moto non può contemplare l'attrito nel senso che devono avere la loro purezza ma la purezza non vuol dire distacco dal mondo vuol dire semplicemente che in certi casi non bisogna tenere conto delle situazioni particolari per questo sia dal punto di vista locale che dal punto di vista globale noi abbiamo bisogno dell'idea di giustizia perché se dicessimo che prevale la legge del più forte la legge del leone o che prevale lo sgrettolamento di una società in cui viviamo in cui tutte le opinioni sono equivalenti in cui tutti gli atteggiamenti diventano uguali se in una società come la nostra in cui ci sono quattro regioni comandate in parte dalla malavita ci sono dei potentati ci sono dei poteri occulti che determinano la nostra esistenza se abbassassimo la guardia e non difendessimo questi valori anche se questi valori sembra di essere dei don chisciotti a difenderli la nostra società andrebbe veramente a rotoli per cui quando io parlavo di sicurezza intendevo dire non che bisogna portare la pistola oppure che so io non essere infettati dall'arrivo di gente estranea volevo dire semplicemente che chi vive nell'insicurezza vera o presunta perché io credo che la percezione per esempio della paura vada presa sul serio soprattutto in politica perché la percezione conta e quindi il tentativo di trovare il senso dell'esistenza delle persone rappresenta un fattore che rende la gente un po' più sicura ma non nel senso perché ha più soldi certamente degli aiuti di carattere finanziario per esempio alla povertà un tentativo di non far diventare lo welfare state per esempio pensioni ospedali eccetera qualcosa che vale per chi si può permettere c'è un elemento preoccupante di queste cose in Italia l'età della vita sta diminuendo cioè noi abbiamo avuto in questi ultimi decenni una crescita continua dell'età media della vita e oggi il rapporto tra vivi e morti tra nati e morti sta diventando più svantaggioso quest'ultimo anno ci sono stati 600.000 morti in più dell'anno scorso a cosa è dovuto questo? probabilmente al fatto che molta gente non ha l'accesso a cure immediate o a medicinali poi c'è una differenza notevole a Napoli si vive in media tre anni meno che a Firenze quindi quando sentiamo queste cose noi diciamo è giusto che sia così non è giusto e cosa vuol dire non è giusto? non che dobbiamo fare degli appelli dovremmo mobilitarci politicamente ma anche moralmente perché in certe situazioni cambiano quindi c'è un problema lei dice di sicurezza anche legato all'ambiente è giusto che la camorra nelle terre del fuoco abbia sotterrato dei veleni per cui per esempio anche i cavoli e le rape sono diventate immangiabili oppure che la mozzarella prodotta in quella zona venga poi trasferita altrove fatta partire con un'altra etichetta è giusto che per esempio chi produce delle arance in Calabria venga tassato dall'andrancheta e chi non paga i vagoni ferroviari carichi di arance vengono messi in un binario morto no che non è giusto allora il problema non è quello dell'indignazione così non è quello di Crozza di Napal 51 che si appiglia con tutti in rete il problema è che purtroppo noi siamo anche un popolo di individualisti insomma come mostra l'episodio dell'elementare che ci raccontavano della della disfida di Barletta siamo bravi come individui abbiamo più difficoltà a fare a fare gruppo questo varia naturalmente stiamo anche imparando ma l'idea non è quella della giustizia solo in Italia l'idea è se abbiamo un'idea di giustizia che sia comparabile con tutti faccio un esempio filosofico per finire questa parte abbiamo parlato l'ultima volta anche c'è una frase di Nietzsche che è arcinotta Dio è morto però questa frase non vuol dire non è un inno all'ateismo Nietzsche vuol dire che intanto mette questa espressione nella bocca di un pazzo il quale fa qualcosa di cui si pente perché chi è Dio Dio è il garante con i suoi comandamenti di norme etiche religiose e politiche che essendo Dio sono insindacabili sono indiscutibili se Dio è morto vuol dire che viene scaricata sulle spalle degli uomini la capacità di creare delle norme di convivenza o di condivisione in questo caso che siano al riparo da critiche catastrofiche cioè che vengano condivise da tutti e questo è importante perché se Dio che dice tu devi fare così metti i comandamenti non si può diciamo per il fedele combattere con Dio ma se un uomo dice fai così per esempio nelle democrazie se ne era già accorto Tocqueville che era uno scrittore francese che aveva scritto questo sulla democrazia in America siamo 1835 1840 allora succede che nessuno crede a quello che dicono gli altri perché fa un paragone cosa ha quello per essere più ricco di me più potente di me cosa ha quello persino per essere più bello di me quindi nasce una specie di recriminazione continua per cui l'autorità stessa viene distrutta dice Tocqueville che i presidenti degli Stati Uniti per esempio del suo tempo venivano disprezzati per quello è salito al potere perché così c'è una camorra di persone che l'hanno che l'hanno aiutato e quindi il problema dell'autorità attenzione che non è l'autoritarismo l'autorità è più di un consiglio e meno di un ordine c'è la capacità di avere un'influenza che è basata sul riconoscimento proprio etimologicamente auctoritas latino da augeo aumento cresco cresco sopra gli altri per un po' e quindi c'è per esempio si confonde l'autorità con l'autoritarismo per cui tutti quelli che sono in possesso di certe qualità insomma io non affiderei a un pilota di aereo esperto un principiante oppure addirittura non ci metterei un altro così il chirurgo vorrei che fosse bravo allo stesso modo per dire un piccolo aneddoto c'è un mio amico che è un grande chirurgo che il giorno prima dell'operazione gli viene il paziente gli dice sa professore ho visto in internet che l'operazione dice lei non va bene bisognerebbe fare allora gli ha cacciato suon di non di calci ma quasi gli ha detto allora vado a farsi operare dal dottor google ecco questo cioè noi siamo in una posizione per esempio che qualsiasi non viene riconosciuta qualsiasi forma di competenza e quindi nascono degli elementi in società che che stanno minando credo un po' credibili per esempio cose accertate dalla scienza non entrano nelle polemiche spicciole non vengono non vengono accettate e in sostanza non rinunciamo alla giustizia c'era una frase che Kant e il filosofo citava sempre in latino fiat giustizia et pereat mundus sia fatta giustizia e il mondo va da rotoli forse è un po' troppo però il mondo se non va a rotoli quando c'è l'ingiustizia poco ci manca le società certamente si corrompono buonasera e grazie per la sua presenza io ho ascoltato il primo giugno ero in macchina e ho ascoltato un suo intervento a radio a radio anch'io non so quella radiotrasmissione del mattino perlomeno l'hanno trasmesso in quel momento e mi era sfuggito un po' un concetto perché la radio non è che l'ascolti sempre magari ti fermi scendi così e lei se non ricordo male ha parlato di povertà culturale e povertà di sistema siccome mi sembra che la povertà sia mi sembra la povertà credo sia direttamente collegata alla giustizia vorrei che chiarisse quel concetto grazie noi viviamo in un periodo in cui non ci sono mai state differenze così enormi tra gli uomini in tutta la storia dell'umanità e questo è dovuto a vari fattori soprattutto se guardate le cinque società più ricche del mondo cioè Google Apple Facebook i cinesi Alibaba o Huawei bene sono tutte nel campo dell'informatica o dell'intelligenza artificiale o dello scambio come Bezos con Amazon che avevo dimenticato che è il più ricco di tutti quindi noi stiamo andando verso un tipo di economia in cui ci sono livelli altissimi di competenza soprattutto nella costruzione di macchine robot aggeggi con dispositivi dotati di intelligenza artificiale faccio un esempio i robot di ultima generazione sono collegati direttamente al cloud cioè alla cosiddetta nuvola a questo archivio di informazioni enorme in cui c'è di tutto e possono aggiornarsi continuamente il cosiddetto upgrading per cui sono dotati ora di vista tridimensionale e fanno delle cose che tolgono lavoro agli umani ma questo è un altro discorso ma fanno di tutti avete letto probabilmente nei giornali che a Las Vegas c'è un barman che è un robot che vi prepara tutti i cocktail che vorreste è provocato lo sciopero del personale di questi casinò dove è stato applicato da San Francisco sono già pronti ma hanno resistenze giustamente per certi aspetti sindacali due tipi di robo uno che metterebbe sull'astrico tutti i lavoratori del fast food perché vi prepara 400 hamburger all'ora cioè dieci volte intanto quelli che fanno gli umani ma non solo vi prende la polpetta dal frigorifero vi prepara la carne sul momento la mettete dentro il panino con ketchup cose pomodori cipolle e quello non c'è non c'è convenienza l'altro è una specie un robot a forma di polipo che gli fate vedere un arancio o una mela lo portate in una zona in un fruttetto un arancetto e quello vi raccoglie con tutti gli otto tentacoli gli aranci li mette nella cassetta e lo fa cento volte più veloce di qualsiasi umano quindi tutti quei poveracci di genere messicani che stanno in California a raccogliere gli aranci sarebbero ma del resto l'intelligenza artificiale è dovunque la povertà culturale è che stiamo andando avanti verso un'economia e anzi un'alleanza tra politica ed economia avanzata che fa sì che siano premiati quelli che sono capaci di scrivere degli algoritmi e l'algoritmo è una cosa semplice sembra un parolone è una stringa di procedure di simboli logici alfanumerici punti esclamativi eccetera dotata un centinaio di righe che dice cosa deve fare una determinata macchina intelligente e essendoci la machine learning cioè la possibilità delle macchine di imparare di farle fare altre cose che non erano previste all'inizio ora scrivere degli algoritmi e applicare così e queste cose non è da tutti quindi ci sarà un'elite informatica robotica eccetera eccetera che diventerà dominante ma nel contempo si provocherà almeno all'inizio una perdita mostruosa di posti di lavoro una perdita mostruosa di posti di lavoro che non è colpa direttamente delle tecnologie è colpa delle società che non sono in grado di adeguarsi a queste nuove tecnologie infatti la Germania che è quella più tecnologica in Europa ha la disoccupazione più bassa perché ha sistemi scolastici ha sistemi di previdenza eccetera per cui la tecnologia aiuta invece in altri posti siccome si perderà il 47% dei posti di lavoro nei prossimi decenni e 820 mestieri come sono stati calcolati dove la società non è dinamica in Italia stiamo abbastanza bene produciamo più computer che il resto del mondo abbiamo dei centri di ricerca come l'istituto di tecnologia di Genova la scuola Sant'Anna di Pisa eccetera che sono a livello mondiale però stentiamo ad applicare queste nuove tecnologie ecco allora altra forma di povertà culturale la povertà culturale è data per esempio dal nostro modello di vita di tipo consumistico se vedete la televisione a meno che non sia tarda notte raramente vi dà dei programmi culturalmente soddisfacenti vi dà della robetta ma perché perché la pubblicità su cui si sostengono soprattutto le televisioni commerciali va dove c'è un discorso semplice Don Matteo per esempio o cose di questo genere e quindi non c'è interesse a fare dei prodotti diciamo qualitativamente che sono generalmente un po' più difficili e poi c'è l'idea di una sorta di commercializzazione del sapere e di una di una cultura del divertimento immediato che non c'è niente di male uno ogni tanto ha voglia di distrarsi di vedere robaccia però il fatto che che la qualità stia scadendo è indice come dire di un abbandono di gran parte della popolazione come dire armi di distrazione di massa come si dice al gusto di come diceva Sandro Veronelli che era uno che si interessava di vini di pronta e rapida beva cioè di avere queste cose oppure visto che stasera ho parlato un po' di latino tutte le forme di estetica o di tipo erotico ci vuole la venere facile in parabilenque è disponibile quindi consoliamoci con queste cose grazie grazie